Davvero Dante si sposò a 12 anni? Qualcuno di voi è stato mai invitato al metriamoni di Dante? No? Peccato! Non sapremo mai se Dante si sia mai sposato all'età di 12 anni. Sappiamo che i genitori di Dante nel 1277, quando Dante aveva appena 12 anni, avevano fatto un accordo legale da un notaio per il matrimonio con Gemma Donati. Non sappiamo quanti anni avesse Gemma Donati in quell'anno, direi non sappiamo quasi nulla, né la data della sua nascita, né quella della sua morte. Dante parla pochissimo di sua moglie. Sappiamo più di Beatrice, ma di Gemma Donati non sappiamo quasi nulla. Probabilmente nel 1277 si è solo stipulato un accordo prematrimoniale per la dote di Gemma Donati. Molti sono convinti che il matrimonio si sia assolto qualche anno più avanti. Probabilmente nel 1285, quando Dante aveva 20 anni. Qual è la verità? Non lo sapremo mai. A 12 anni o a 20 anni? Sappiamo per certo che Dante ha sposato Gemma Donati, ma non sappiamo a che età l'ha sposato. A voi la scelta. Ciao, ai prossimi video. Ciao, ai prossimi video. Ciao. Ciao.